PEGGI 16 Risolvi questo! Lavori per l'enigmista, lo so. Ma non farmi male, ti dirò tutto! Queste sfide sono ben al di là, non è come la tua, Batman. Lasciali, enigmista. Sono innocenti. Ammetti che sono più intelligente di Batman? Ciò che state provando è paura. Un'emozione scatenata dalla previsione di uno specifico dolore o pericolo. La cosa è più 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 insibile. Sei pronto per continuare? So che è così. Vai, esplora! Trova i miei elitimi! E quando non riuscirai a risolverli e ti metterai a fregnare come un ignorante bamboccio che se ne fanno addosso, saprai che l'enigmista è migliore di te. E quando non riuscirai a risolvere di te. E quando non riuscirai a risolverli e ti metterai a risolvere di te. Grazie.